E torniamo a parlare di Europa, proprio in questi giorni ricordavamo questo appello che è stato lanciato dalle chiese protestanti, un appello alla responsabilità dell'andare al voto, del prendere coscienza anche della propria responsabilità personale in un'ottica anche di collettività e quindi l'invito a partecipare attivamente a queste scelte che poi ovviamente delineranno anche le linee dei prossimi anni, del prossimo futuro. Di Europa si parla anche a Pinerolo, al Tempio Valdese di Pinerolo, il prossimo giovedì 9 maggio alle ore 21, una serata dedicata proprio alla festa dell'Europa che cade il 9 maggio e che vedrà la presentazione del volume L'Europa senza retorica. Abbiamo con noi Paola Schellenbaum, antropologa, membro della Chiesa Valdese di Pinerolo. Ciao Paola, bentornata su RBA. Ciao Daniela e buon pomeriggio a tutti e a tutte. Tu sarai presente a questa serata, a te il compito insomma di coordinare, di moderare i vari interventi. Ti chiederei un po' da dove nasce l'idea di questa serata per l'Europa, diciamo per promuovere anche questa partecipazione ad un progetto più collettivo. Sì, allora in realtà è nata alcuni mesi fa quando è uscito questo libro, L'Europa senza retorica di Barbara Curli, che è una storica, insegna una storia contemporanea nell'Università di Torino, che io conosco da alcuni anni e quando me l'ha presentato ho subito pensato che si prestava diciamo ad una presentazione pubblica e quindi piano piano abbiamo costruito questo, in un percorso devo dire anche abbastanza fluido insomma nel senso che l'idea è piaciuta subito a tutte le associazioni che hanno aderito e quindi abbiamo costruito questo percorso appunto in vista della giornata per l'Europa che appunto cade il 9 maggio. Devo ringraziare le associazioni appunto di Pinerolo, quindi innanzitutto il comune, la città di Pinerolo, poi le biblioteche civiche, ma pensieri in piazza, l'associazione Ettore Serafino, ovviamente la chiesa di Pinerolo che ci ospita e la Fondazione Centro Culturale Valdese che anche ha aderito. In più siamo riusciti a inserirlo per una coincidenza diciamo nel programma del Salone Off e quindi abbiamo coinvolto anche la Libreria Volare, non soltanto perché metterà a disposizione i libri ma proprio il Book Club della Libreria Volare che si riunisce una volta al mese e che leggerà alcuni brani brevi estratti diciamo dal libro perché il libro è un po' particolare nel senso che è una collezione di saggi per cui si presta veramente ad una presentazione collettiva. Ecco questo libro, L'Europa senza retorica, appunto dicevi scritto dalla docente di storia contemporanea dell'Università di Torino Barbara Curli, racconta, raccoglie tre saggi di tre donne peraltro quindi un libro diciamo al femminile. Sì esatto, infatti è appunto abbastanza particolare da diversi punti di vista allora innanzitutto è una riflessione approfondita ma anche di lettura molto piacevole diciamo molto scorrevole partendo un po' dal motto dell'Unione Europea che è unità nella diversità allora noi siamo abituati a sottolineare molto l'unità che ci sembra appunto irraggiungibile soprattutto se poi pensiamo all'allargamento dell'Unione ai 27 Paesi ci sembra sempre più difficile andare d'accordo diciamo o prendere delle decisioni in maniera appunto all'unisono. Questa raccolta di saggi in particolar modo i tre articoli che sono contenuti vuole mettere l'accento anche sulla diversità cioè non c'è unità se non c'è appunto una gestione delle diversità e questo è una diciamo un punto di partenza molto importante perché ci aiuta a capire come tutte le crisi, tutte le difficoltà che spesso vengono messe in evidenza spesso diciamo l'Europa fallisce su tanti temi l'immigrazione innanzitutto ma anche poi appunto tutto il discorso sulla difesa comune e anche su altre tematiche che dovrebbero essere appunto più marcatamente europee tutti questi problemi, tutte queste difficoltà sono appunto sempre molto diciamo sottolineate tanto che qualcuno e poi dopo la Brexit ha maggior ragione ha persino parlato di pericolo di disintegrazione dell'Europa naturalmente invece questi tre saggi che sono scritti appunto da tre donne tra l'altro in tre periodi storici diversi e quindi anche la periodizzazione particolare nel senso che il primo è nell'immediato dopoguerra risale al 1966 Miriam Kempz che è stata tra le responsabili diciamo della parola integrazione europea e quindi a lei dobbiamo questo sforzo diciamo di unire e di sperimentare anche appunto e di costruire processualmente insomma nel divenire che cos'è appunto l'Unione Europea poi un altro saggio che invece risale al 1992 di Rosie Braidotti Rosie Braidotti è molto conosciuta anche in Italia una filosofa, women's studies, insomma studi di genere una grande riflessione che lei fece proprio a partire poi soprattutto intorno agli anni 2000 perché tentò di portare appunto in Europa gli studi di genere che erano marcatamente americani allora anche soltanto io faccio sempre questo esempio la parola gender che è appunto inglese lei disse beh proviamo a tradurla in tutte le 27 lingue dell'Unione Europea ed ebbe tutta una serie di difficoltà e anche di riflessioni su come di nuovo bisogna tenere insieme l'elemento diciamo nazionale con l'elemento invece transnazionale e sovranazionale che appunto rappresenta l'esperimento europeo e poi il 2016 che invece è la Brexit e quindi c'è una scrittrice che ne parla che ha tenuto un diario al tempo appunto della Brexit Zadie Smith anche lei è molto conosciuta e che effettivamente sottolinea in questo piccolo racconto che è stato scritto appunto in occasione della Brexit sottolinea la sorpresa anche un po' l'incubo perché poi i londinesi invece votarono assolutamente per il Remain e anni dopo si stanno rendendo conto invece tutti quanti quanto appunto costi uscire dall'Unione Europea e quanto sia difficile naturalmente poi lì c'erano sogni diciamo neoimperiali se così possiamo definirlo comunque nostalgie per quello che la Gran Bretagna aveva rappresentato nel passato ma oggi il mondo è completamente cambiato sappiamo gli equilibri si stanno ulteriormente modificando e quindi forse mettere l'accento appunto su un processo di costruzione di anche ridefinizione di tutta una serie di tematiche nel senso della solidarietà dell'inclusione sociale potrebbe aiutarci molto a immaginare l'Europa del futuro per le future generazioni perché non dimentichiamoci che tutti diciamo gli enti sovranazionali a partire dalle Nazioni Unite fino appunto all'Unione Europea sono stati creati nell'immediato dopoguerra ma concepiti, pensati, immaginati nel pieno della guerra quindi nel pieno di una crisi e avevano la loro forza proprio nell'immaginare un futuro che fosse un futuro appunto di pace di prosperità e comunque di convivenza pacifica di convivenza multietnica multireligiosa insomma di grande apertura questo è un po' il sogno dell'Europa ma che è anche un grande progetto un progetto che non è concluso e che speriamo possa proseguire Paola, l'Europa e le chiese valdesi le realtà protestanti beh insomma leggevamo appunto questo appello che arriva dalla comunione delle chiese protestanti l'invito a prendere in consegna ecco la nostra responsabilità personale ma anche il motto che citavi prima l'unità nella diversità ci richiama dei temi molto presenti nelle nostre chiese pensiamo ad esempio alla Seva comunità di chiese in missione insomma cosa lega la chiesa valdese all'Europa cosa l'ha legata negli anni nei secoli passati e cosa ancora la lega questa realtà sì allora a questa domanda bisognerebbe rispondere in maniera molto particolare ed è molto ampia ovviamente nel passato se non ci fosse stata l'Europa probabilmente avremmo avuto molte più difficoltà forse non ci saremmo proprio e quindi e quindi i legami diciamo e anche la riflessione sull'Europa e sull'importanza poi dell'Unione Europea ha sempre caratterizzato diciamo il dibattito e la riflessione all'interno delle chiese valdese e metodiste diciamo che la comunione delle chiese protestanti in Europa ha lanciato giustamente per queste elezioni un appello molto sentito e la cosa che mi ha colpito oltre naturalmente ad andare a votare insomma la partecipazione democratica la cosa che mi ha colpito molto è che invitava le chiese ad essere dei luoghi di formazione delle opinioni che è quello esattamente che cercheremo di fare il 9 maggio cioè cercheremo di confrontare appunto delle opinioni diverse e cercheremo di avere degli spazi insomma di confronto affinché si possa comprendere come alcune sfide contemporanee sono delle sfide globali e quindi possono essere affrontate soltanto insieme soltanto appunto con altri paesi e quando si mettono insieme delle differenze insomma quando di lingua di cultura di storia anche ed è qui che appunto la comunione delle chiese protestanti in Europa invita a soffermarsi sullo slogan diciamo diversità riconciliata che è ciò che le chiese protestanti luterane calviniste unite hanno fatto con la concordia di Lojenberg di cui l'anno scorso abbiamo ricordato i 50 anni quindi davvero è un percorso che anche le chiese protestanti in Europa compiono e invece sul lato diaconale Eurodiaconia ha lanciato un manifesto per un'Europa veramente sociale e qui mi colpisce il veramente perché allora si parla tanto appunto di un'Europa sociale ma forse non abbiamo fatto abbastanza fino ad ora e quindi viene sottolineato azioni di protezione sociale ma anche e soprattutto di ricostruzione della fiducia tra i cittadini perché ci si rende conto che essendo immersi in discorsi di guerra in discorsi di difficoltà economiche di crisi la permacrisi è un termine che è nato all'indomani della pandemia per esempio proprio perché sottolinea queste crisi ricorrenti ci dimentichiamo di sottolineare invece quanto sia importante appunto con pazienza ricostruire ricostruire naturalmente ambienti di vita ricostruire il benessere anche sociale e culturale tra le persone e soprattutto appunto relazioni sociali che possono essere inclusive e quindi e quindi bisogna votare diciamo sì con coscienza ed essere molto attenti a quelle forze politiche che mettono al centro questi temi che sono temi trasversali tra l'altro su cui appunto ci si può ritrovare in molti ma davvero ci vuole questa volta uno sforzo congiunto uno sforzo che ci consenta di affrontare il futuro con un pochino più di fiducia e intanto per chi volesse saperne di più noi rimandiamo a questo appuntamento l'appuntamento di giovedì sera giovedì 9 maggio alle ore 21 Tempio Valdese di Pinerolo per la presentazione appunto anche di questo volume l'Europa senza retorica e la partecipazione come ci ricordavi tu prima Paola di tantissime associazioni del territorio inserito nel salone off grazie per essere stata con noi grazie Paola buon lavoro ovviamente a te a tutta insomma l'entourage che accompagna questa festa dell'Europa e alla prossima occasione ciao grazie grazie a tutti grazie a tutti